Ecco i miei documenti. Bene, posso pure. Cos'è? Non crede ai miei occhi. Non è una donna. È una dea. E si è vicina a me. Che bella. Ma fa caldo qui. Ecco il mio passaporto. E c'è il biglietto. Grazie. Sì, come mi guardo. Sono gli uomini. Buona giornata, ragazzi. Devo prendere l'aereo. Sì, andiamo, andiamo. Forse riusciremo ad andare. No, ragazzi. Dove volete andare? Fate vedere i biglietti. Ed ecco il mio aereo. Oh, che bello che non è come me. Wow. Finalmente. Sono così stanca di avere queste cose. Ecco, tesorucci. Siete mancanza della mamma. Sì, sì, che sfortuna. Andiamo a fare un bel viaggio, ragazzi. Oh, come on. Buongiorno il suo biglietto. Tutto a posto, però non può portare gli animali. Eh, ecco. Ma io ho un'idea. Ecco, io ho un bel capello dove posso nascondere il mio carino. Ciao, Bobbi. Non si preoccupi, resta con me. Il suo passaporto, signorina. Non c'è problema. Aspetti un'ottima. Cosa? Non potete andare a bordo con l'animale. Vabbè, starà qui e starà bene. Non si preoccupi. Salve, signore. Posso controllare il suo cappello? Eh, le faccio vedere un trucco. Etto il passaporto. Oh, fate vedere com'è questo cappello. Strano. Mi scusi, vada. Eh, là non c'è nulla. Vabbè. Eh, buongiorno. Passi. Ecco, il mio coniglietto è rimasto là da sola. Scusi, so come aiutarla. Eh, ecco un piccolo trucco. E il suo coniglietto sarà vicino a lei. Aspetti un'attima, aspetti. Eccolo. Ah, lei. Oh, grazie. Eh, vabbè. Non ci sono degli animali. Eh, ok, buongiorno. Bene, bene. I documenti sono posti. Ma devo dare un'occhiata al cesto. No, il mio gattino. Sai cosa fare? Eh, signore. Gli hanno mai detto che lei ha un bellissimo mento. Posso fare una foto? Eh, sì, perché no. Anche se aspetta un attimo. Ecco, devo sistemare i capelli. E adesso sono pronto. Ok, bene, bene. Ha funzionato. E adesso devo scappare. Scusi. Eh, cosa è successo? Ho un cesto vuoto. Sento l'odore di un animale. Eh, buongiorno. Ecco, passi, prego. Ah, ecco il mio posto. Ecco, tesoro. Può uscire. Ah, che carino. Posso accarezzarlo? Certo. Ah, che carino che... Ah! Ah! Sono allergica. Buongiorno, buon viaggio. Buon viaggio e i documenti. E una bella scansione. Ah, dagli animali. Ah, no. Allora, passi. Oh, un attimo. Ecco, no. Niente animale a bordo. Oh, no. Oh, ma che regolo severo. Vabbè, non posso passare neanche con la rana. Devo fare qualcosa. Io ho un libro che io l'ho già letto. E allora posso, sì, rovinarlo un po'. Allora, questa parte della storia non mi è mai piaciuta. E adesso posso mettere dentro la rana. Bene. Ok, posso andare. Ecco i bibirizi. Posso andare? Aspetti un attimo. Non c'è nulla. Bene, passi. Buongiorno. Ecco il mio posto. Bene. Mettola in bagaglia. Ok, siamo pronti per il decollo. Ah, bene, bene. Ah, come stai, piccolina? Ah, cos'è? Ah, no. Aiuto. Buongiorno. Ecco i miei bibirizi. Ok, come stai? Ma non può portare là il pappagallo, eh? È vietato con gli animali. Non posso andare con gli animali. Ah, io ho un'idea. Dai, su, mi serve il tuo aiuto. Così meglio. Ok, buongiorno. I bibirizi. Ah, ah, ah. No, la lusciarta non è uscita. Signore, sta bene? Sì, sì, sto benissimo. No, è... Ah, che solletico. Cosa? Ah, niente. Circolate un battito divertente, vero, Alex? Eh, non ci credo. Fate vedere cosa avete là. Ah, lo sapevo. Ah, ha cercato di portare l'animale a bordo. Guardate, cosa sarà? Eh, sì. Oh, cosa? Dove sono? Oh, non lo sappiamo. Ah. Mm. Come on! Eh, salvo il mio biletto. Ah, tutto a posto. Oh, no. Un bescellino rosso. No, no, l'animale non sono messo a bordo. Per favore, mi dia il pesce. Io mi ne cobraccio lui. Oh, ma cosa? Devo dire ciò al pitone. Ma è così sensibile. Io ho idea. Aspetta. Ecco i miei documenti. Ecco. Dai, su, devo andare. Ma questo cos'è? Niente animali. Eh, no. Ma cosa? Mi scusi. Eh, vada. Ed ecco il mio posto. Oh, c'è qualcosa, Lada. Oh, un serpente. Dai, sono. Nessun problema. L'avrò fatto. Amo il mio lavoro. Posso stare fermo tutto il giorno. Posso imparare a compadre come una tartaruga ninja. Buon parigio. Sono venuto a fare degli esami i menci. Prima, fai vedere cosa c'è dentro la maligia. No, non ci saranno dei menci del genere. Vattene. Devo comunque fare un'ispezione. Beh, se non mi lascia entrare da prigione, allora dovrò controllarlo. Con questo clistere. Togliti i pantaloni. Sa cosa? No, meglio controllare il piuginiero. Sembra malato. Eccolo, dottore. Lo esamini. Cosa? Oh, esattamente. Sì, mi fa molto mal la pancia. Credo che sia molto malato. Non mi darà fastidio. E hanno questione personale. Guarda, Angie. Ci ho portato il tuo animale domestico. What? Spero di non aver fatto confusione. Allora. Ma da quelle che volevi? Cosa? No, è un gatto. Il mio amico è... No. Ho fatto un po' di confusione. Allora, prego, parzi. Verrò di nuovo. Sì, ma devi andarti. Sono allergico, ragazzi. Non ho paura. Ho quella che serve. Adesso... Ti passerà l'allergia? No, no, no. Vai, corri. Il gatto sta cappando. Vabbè, io ce la faccio. Allora, ho un delicioso franzo. Aspetto. Ma dovete questo gatto? Come ha fatto ad entrare nell'edificio? Ah, è stupido. Gattina, mi dispiace, ma dovrò cacciarsi via. Vai. Siamo stessi vistotti. Siamo stessi vistotti. Dobbiamo scappare. Prima di questa velocità... Si sveglia? Avrò più frattuola la prossima volta. Uh-oh. Wow. Ciao. Sono venuta a pulire. Fatemi passare. Aspetta. Prima devo finire di controllarti. Forse stai trasformando qualcosa di virgoloso o illegale. Cosa? Sono solamente una donna delle pulizie. Eh, volete un gift card? Grazie. No. Ma non pensare che il cioccolato sia per me più importante del lavoro. Fai vedere cos'hai qui. Eh, niente. Eh, cavolo. Cosa? Ma perché mi ha dato fastidio? Ho altri dice difficile da pulire. Quindi svegli di trattenermi. Che succede? Va bene. Vai, vai. Almeno sarò più bonita. Grazie. E mi devo portare a te, amico. Li ho trovati tutti e tre. Tre? Ma io non solo. Non è possibile. Ne ho trovato tre. Pescioli. I pesci? Ma chi chiama i pesci, eh, amici? Non è lui. Il mio amico, eh? No, sarebbe una ripropolazione. Non nasconderli pesci. Nasconderli? Ma come fai? Eh, dove? Eh, vabbè. In bagno. C'è dell'acqua. Quella è dentro. E che significa che il pesce sarà sano e salvo? Spero che non si pese nulla. Cosa sta succedendo qui? Perché dall'acqua si pamenta? Eh, perché sei qui? Eh, devo andare in bagno. Oh, allora ci andremo da qui amicamente. Spero che già riesco a trovare la mia amica. Mi sento così solo se se mi manca così tanto il mio cane. Spero che stia bene. Ciao, il mio nome è Jerry. E sono potuto controllare la tua nolla. Ecco il mio cassetto degli attrezzi, guarda. Siamo pronti a posto, posso farsi entrare? Stop! Eh, ferma! Eh, prima potrei stare ad acchiatta le mie sedie. Non è rotta. Non posso nemmeno sedermi sopra. Eh, la sedia. Eh, sì, succede spesso. Qua è semplice. Mi serve dello scotch. Sì, è una struttura. Sì, è una struttura. È una struttura. Sì, va? Sì, è una struttura. Eh, va certo. Sì, funziona finalmente. Sì, è una struttura. 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 Sì, è un poliziotto. Allora dovrò fare il mio lavoro. What? Dove sono le mie armi? Sempre in questo foretto sia maestra nel suo mestiere. Ma cosa? Dobbiamo andare? Per favore? Per loci. Ferma! Deve prenderlo lo stesso. No, non lo farai. Non te lo permetterò. Sai una cosa? Non ci darò da mangiare per questo. Ecco, una banana. Da mangiare altro prezzo del giorno. Buon appetito. Lascio parlare. Ho prontato del cibo per il prigioniero. Spero che non ci siano degli animali dentro. Recentemente abbiamo avuto un problema con il foretto. Cosa? Di cosa sto parlando? Vabbè. Posso prendere queste armi? Non ho così che ho tanta fame. Buon appetito, certo. Grazie. Certamente potrò mangiare come si deve. Ho aspettato un attimo. Perché c'è della pelliccia? Credo di saperlo. Andy, sono io Jay. Ho portato un amico. Finalmente. Non posso aspettare. Allora, il tuo amico è così veloce. Ma non è il mio amico. Sta arrivando il poliziotto. Ancora di nuovo con gli animali? Allora, dove sono? Sotto i coperchi. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Allora, c'è qualcuno qui. Ho visto il pelo. Ma, vedete, non c'è nessuno. Sembra. Lo troverò. Ma cosa sto facendo? Io non ho nessuno. Oh, che marco, Neil. Ti salto sotto il mio capallo così. Fermo. Dove va? No. Io sono da Andy. Sono sua moglie. Abbiamo una famiglia. Un bambino piccolo. Questa è entrata. Il bambino è fatto il suo papà. Ma il bambino? Ma certo, va pure. Andy non è tanto un niente della sua famiglia. Andy. Oh, sono di nuovo io. E a quanto pare, questa volta, ho portato il tuo amico. Perché non ha detto subito che è un cane? Oh, il mio bimbo. Finalmente sei con me. Come mi sei mancato. Vieni qui. È troppo grande. Passerà attraverso le sbarre. Ringetelo, sta scappando. Andoro, Doc. Cosa è successo? Perché questa polizia in atto nozò? Ehi, dove sta andando il cane? Mi ha chiamato. Non so perché questa sia un'occasione per fare vandere Andy. E le chiave sapreremo qui. Puoi farmi uscire? Sì, ora sarai libera. Devo solo trovare la chiave giusta. Oh, no. Credo di sapere come calmare così male. Ho fuori, non ho da. Non lo sapevo. Allora andiamo. Andrai in pregione anche tu. Cosa ci fa qui? Gente, in realtà... Sono qui. Amico, ora starai accanto al tuo padrone. Tuttavia dovrete stare insieme in una cera. È vivo il mio amico. Finalmente siamo insieme. E io posso andare a casa? Allora... E se ne paga? Ultimamente è stata capace di trasformare una pregione da Joe. Per questo deve anche sedersi indietro e le sbarra per un po'. E ora sicuramente non mi causerebbe problemi. E io vado a mangiare. Nero è quello che ci aspetta, ma sfide ci aspetta. Auto rosa contro l'auto nera. Cos'è? Cos'è facendo, vita? Hai intenzione di decorare l'auto? Però l'auto più morbida e rosa del mondo. Tutta rosa. Sì, ecco. Incolorato tutto quanto. È bellissima. Ho un'auto perfetta. Nessun'altro l'ha fatta. Ma non è bellissima. Ah? Sei solo invigioso, eh? Guarda. Eh, cosa? Ma adesso ne la faccio vedere io. Io ho un'idea. Non avrò sicuramente bisogno di questa. Il vostro ordine è soltanto così veloce, Kevin. Grazie. Che scatola grande. La vernice nera, proprio quello che mi serviva. E ora mostrerò a questa ragazza cosa vuol dire un'auto veramente bella. E vai! Fatto! Perfetta! E il tocco finale? Eh, sì. Ottimo lavoro. E cosa abbiamo adesso? Sì, abbiamo... Sì, ma abbiamo questo. Dobbiamo aggiungerlo qui. Un po' di colla. Bene, bene. E anche qua. Sì. Ottimo. Ho decorato la mia macchina. Cos'è? Ecco. Ma che schifo. Non mi arredo così facilmente. Ho decorato l'esterno. E ora devo abbellirmi all'interno dell'auto. Ok, così. I sedili in bottiglia sono un amore. Ora aggiungiamo un po' di dettagli. Ok. Qui. Sì. Ecco. Ed ecco che il mio capolavoro rosa è finito. Ed è così morbido. Che bello. Ancora un po' qua. Sì. Ottimo. E qua. Sì. Ah. Ah. Amichetto mio. Vieni qui. Mm. Bellissimo. E aggiungiamo un po' di luce. Una striscia LED. Ecco. Così. Sì. Ottimo risultato. Che bello. Alex, un male obiezione per battermi. Eh? Cos'è? Tutta rosa. E cosa sarà? Ah. Io ho una catena. E il mio volante sarà bellissimo. Perché sarà di ferro. E non soffice morbido. Bisogna solo aspettare che la colla si asciughi. Ok. Perfetto. Mi è rimasto della colla. Quindi ne aggiungo un po' qua. Perfetto. Il teschio avrà un aspetto molto pericoloso. Sì. Ma l'avevo detto che è forte. Cos'altro? Un po' di teschi qui. Bene. Eh. Giusto. Un altro dettaglio. Ah. E ora il mio volante. Aspetta. In giro d'oro. La mia macchina è la migliore. Uh. Lo so. Vediamo a cosa si inventa vita. Che bello. Cos'è? Alex. Ma. Sta compiando le mie idee? Hai decorato l'auto con i teschi? Gelosa. No. Nella mia macchina c'è abbastanza spazio per tutti. Anche per il mio amato cane. Vieni qui. Bravo. Tesoro mio. Comportati bene. Guarda. La mia macchina è qui. Dai. Vieni qui. Tesoro. Ah. Cosa che inco. Il mio bambino non può star là. Ecco. Devo decorare tutto così. Ah. Così veloce. Mi avete dato molto. E ora faccio tutto io. Si mette qui un litino bello e comodo. Ed ecco fatto. Guarda quanto è carino. Perfetto. Affrediamoci. Ti piace? Ah. Vedo che ti piace. Dai riporta qui. Ah. Dopotutto io ho una macchina fantastica. È il momento di scadare qualche selfie nella macchina più bella del mondo. Che bel uomo che sono. Saprò come lasciare l'istimale in questo video. Cosa c'è di interessante qui? Ah. Cosa si. Che sicurezza. Permettetemi. Ah ah. Viglia subito. Mi chiedo cosa c'è là. Soldi? Oh no. Un gano. Un gano. Slamentoso. Che incomo corre a freddosi. Cos'è questo? Un gano e cosa? Cosa sta succedendo? Spera che non si è successo nulla. Di male. No. Oh. No. La mia borsa. No. Ma perché? La borsa. Bravo. Vita. Vita. Ma questo non è tuo. La mia borsa. Grazie. Ah. Non c'è di che. Ma guarda. Sarà meglio e meglio la mia roba. Spero che i ladri non vengono più. Che gioco fantastico. È impossibile staccarsi. Ma cosa? Si è scaricato. E adesso cosa faccio? Ho un'idea. So cosa devo fare. Aspetto un attimo. Ok. Qui. Bene. Bene. Metto la tv qua. Sì. È ottima. E adesso la playstation. Perfetto. Metterò tutto quanto qui dentro. Cosa abbiamo altro qui? Bello. Così mi metto comodo. E posso giocare tranquillamente. Andiamo. Wow. Cos'è? Ciao fratello. Ciao tazzi. Ragazzi. Venite anche voi. È così divertente. Adoro. È troppo bello. Mi piace. Che bellezza. Che succede lì? Stanno giocando. Ci stanno divertendo. È senso di me. Va bene. Allora. Mi farò vedere io. Ok. Metto la scatola qui. Apro il bagaglio. Ok. E metto qui tutta questa roba. Perfetto. Quiero a colonna. Ne metto un altro accanto. Ecco fatto. È bellissimo. È così. La palla di sconeca. Semplicemente fantastico. E aggiungo le luci. Le appenderò ovunque. Ah sì. Così. Uh. Perfetto. Ok. E adesso è musica. Guardate quanto mi sta divertendo. Sbrigate. Vi partecipate anche voi. Cos'è? Andiamo lì? Sì. Andiamo con voi. E io? I miei amici. Ciao. Mi ricordo insieme. Ma perché Alex non si diverte con noi? Gioca da solo. Oh. È colpa mia. Vabbè. Dai su. Alex. Vuoi venire? Uh. Sì. Ma ho un altro suggerimento. Vuoi giocare con me? Sì. Attenzione. Chi non perde mai? Adesso giocheremo insieme. È divertente. Mi piace. Grazie per avermi invitato. Eh. Non c'è di che. Vediamo cosa aspetta i nostri concorrenti. Cos'è? Una limonata? Che bello. Eh. La nonna vuole prepararlo. Ok. Comincio ad agliare i limoni. Bene. Così. E le metto in un grande bicchiero. Un po' dello zucchero. Uh. Fai attenzione, nonna. Ma cosa ha fatto a questi limoni? Attenta. Attenta. Aggiungiamo dell'acqua frizzante. Bene, bene. Adesso mescoliamo un po' di zucchero e della menta. Oh. Che lavoro, nonna? Eh. E adesso tocca allo chef. Eh. Adesso vi farò vedere come si fa una vera limonata. Eh. Con la mia ricetta originale. Taglio per bene il citriolo. Così. Ne metto in bicchiere col ghiaccio. Che profumino. Aggiungo della tè verde. E poi taglio qua anche il lime. Così. Uno qua e uno per la decorazione. E il citriolo. E poi la menta. Così. Ottimo. Che bello che è. Eh. Ho esagerato. Eh. Aspettate un po'. Ma questa è una bellissima idea. Aggiungo dell'acqua frizzante qui. Così. Sì. Le fragole. E poi lo zucchero più dolce. Eh. Meglio. Poi mescoliamo tutto quanto. E aggiungiamo tutto quanto nell'acqua frizzante. Mescoliamo di nuovo. Sì. Lo scello qua alle fragole. Eh. Sarà ancora più dolce. Ancora più buona. Eh. Decoriamo così. L'aliminato così. Ottimo lavoro, c'è. Guardate cosa ha fatto. Piacerà a me. È di sicuro. Oh. Forse le piacerà di pure la recetta della nonna. Eh. Forse quella della chef. Adesso vediamo. Dai. Prova. Eh. Adesso prova quella della chef. Eh. Non le è piaciuto per niente. Oh. Incredibile. Andiamo avanti. Sì. È la mano della nota. Oh. Sì. Non male. È rimasto quella della sorella. Forse piacerà di più alla sorella. Sì. Sì. Abbiamo il vincitore. E questo è Jane. Bravissima. What? Oh. Quante cose a mangiare. Let's go. Cosa? Il pesce? Eh. Adesso vedremo. Chi è più bravo a preparare il pesce. Eh. Sì. La nonna vuole partire. Prende il pezzo del pesce. Lo metto così. Spadella. Vabbè. Prova a ripetere quello che ha fatto la nonna. Sì. Non male. Ok. Gioco un po'. Ok. Devo girare il pesce. Così. Un po' di sale. Bene. Ottimo. Ah. Sì. Ma nessuno sa cucinare qui. E adesso vi farò vedere come si fa. Ok. Mi serve un po' d'arancia. Un po' delle spezie. Sì. E l'olio. Metto là il pesce. E sì. E preparo. Mi serviranno pure i broccoli. Bene. Bene. Mettiamo tutto quanto qui nel mix. Un po' il succo d'arancia. Devo mischiare tutto quanto. Non avete mai provato una cosa del genere. E il nostro pesce è pronto. Lo metto sul piatto. E adesso sì. Devo farlo per bene. E io nel mio ristorante lo servo così con la salsa. Ok. Un po' dell'erba. Ma cosa hai fatto? Vuoi fare un genio? Ma stai attenta. Guardate che è successo col tuo pezzo. Non è rimasto il tempo. Deve servirlo così. Non è un gran che. Però il piacere della nonna è più bello. Ah sì. Oh sì. Piacerà a tutti. Vediamo se piacerà a Mary. Ah sì. Non è piaciuto il piatto di Jane. Sì. Il piatto della nonna è buono ma... Ma ne hai provato quello dello chef. Sì. Non è piaciuto a Mary. No. Mi perdoni, chef. Però è piaciuto di più il piatto della nonna. Ok. Il terzo torno. Che è più bravo a preparare. Sì. Un muffin. Sì. La nonna sa preparare per bene. Ah sì. Guardate. Ah sì. Bravissima. Ecco. La nonna ha aggiunto tutti gli ingredienti. Adesso deve mischiare. Toccando per bene. Ovviamente sì, sono gli stampi. Sono così belle. Mettiamo là l'impasto. Ok. Devo mettere dentro il forno. Ah. Bel lavoro, nonna. Dobbiamo aspettare un po'. Vediamo cosa faccia da lo chef. Il suo impasto è quasi pronto. Adesso dobbiamo mettere così i lamponi per mischiare l'impasto. E vediamo cosa deve fare lo chef. Ok. Mettiamo tutto quanto qui dentro. E mettiamo dentro. Ah. Ottimo. Ah. Io cosa ho fatto? Ah. Ma è noioso. Mmm. Io so cosa fare. Ah. Ma così è geniale. Ma riuscirò a fare un muffin così velocemente? E sarà così bello. Fatto. Andiamo. Adesso vedremo se funziona. Ok. Mettiamo del cacao, dello sciaropo al cioccolato. Mettiamo tutto quanto. E quello che lo teniamo mettiamo dentro il bicchiere. E non solo il forno. Devo trovare qualcos'altro. Sì. Il forno a microonde. Mettiamo il bicchiere dentro. Dobbiamo solo aspettare. Sì. È pronto, nonna? Che bello. Che profumino. Le mettiamo così. Sbbiate un po' dello zucchero. Anche quello dello chef è pronto. Lo seriamo fuori. E ovviamente la panna. Ah, quante panna. Bravissimo. Un'azio lavoro. È pronto. Spero che piace. Che profumino. Dovrà piacere a Mary, sicuramente. Sì, la nonna farà la scelta giusta. No, è il mio migliore. Sì, ma... Proviamo. Cos'è così? Qua cosa c'è? Ah, non è male. Non è un gran che. Che grande che è. Voglio provarlo. Che buono che è. Sì, questo è il migliore. Sì, lo chef vince. Quanto cibo. Ma cosa prepariamo stavolta? Una zuppa. Qual è la vostra zuppa preferita? Scrivete nei commenti. E forse nel prossimo video i nostri eroi lo faranno. Sì, guardate. Ci sono così tanti ingredienti. Vabbè. Le zuppe devono essere preparate solamente con l'acqua e sì. Poi della panna. Della olea, del burro, delle spezie, del sale. Attenta. Oddio, troppi ingredienti. Anche i gamberi. Che bello. C'è una cosa. Dai su, stai attenta e prepara. La nonna ha tagliato tutte le verdure. Oh, ci aspetta. Sì, una zuppa con i funghi. Penso che non li abbia raccolto da sola. Alziamo la panna. E sì, mescoliamo tutto il quanto. È ottimo. Che bella che è questa zuppa. Però non mi sono ricordato di nulla. Vabbè, questo poi... No, forse questo. Non male, però no. Uh, sì, il formaggio. Ok, lo mettiamo dentro. Sì. E adesso mescoliamo. Mescoliamo per bene. E va bene. È difficile preparare la zuppa, eh. E adesso mettiamo la carota dentro. Benissimo. Uh, che bello che è questa cosa. Andiamo. Oh, sì. E adesso posso servire. Questa zuppa è ottima. Questa è la mia ricetta originale. Ti piace, nonna? Uh, che sono loro, eh. Vabbè, così. Voilà. Eh, vediamo. La zuppa di chi piacerà di più o a Mary? Vabbè, la zuppa è insolita. Vabbè, questa è bella. Ma questa zuppa dello chef non è male. Deve salire, Mary. Ok. Vabbè, vado da qui. Ah, cosa? Un odore strano. Ma cosa sono i funghi? Io odio i funghi. Questo? Cosa c'è qua? Vabbè, è interessante. No, non è buono. E adesso è la terza zuppa. Vabbè, ma assomiglia a schiafezze. Oh, incredibile. È la mia zuppa che abbiamo mangiato. Oh, c'è in cui l'attenzione? Che vettore incredibile. Ok, arriva la parte più divertente. Io voglio una ciambella. Eh, ma questo è facile. Sì, lo farò. Ottima scelta. Hanno già cominciato? Vabbè, l'impasto è pronto. E così devo ritagliare le ciambelle. Sì, così. Tre e vanno bene. E devo riscaldare la padella. Così. L'importante è mettere sì. La temperatura giusta. Bene, bene. Oh, no. Vabbè, è facile. Oh, fatto. Tom, ma cosa stai facendo? Oh, calma, calma. E dopo? Oh, sì. L'olio. Bene, bene. Eh, così. Vabbè, abbastanza, penso. E adesso spezziamo finché si riscaldi. Cosa? Stanno già preparando le ciambelle. Vabbè, metto anch'io. Uno, due, tre. Eh, fatto. Oh, che terrore. No, che male. Oh, perché l'hai fatto? Ah, sì. Oh, no. Devo salvare le ciambelle così. Che terrore. Eh, ma c'è qualcosa che non va. No, le mie ciambelle sono rovinate. Che disastro. No. Dai, non essere triste. Dai, su. Ecco, le mie ciambelle sono pronte. E devo decorarle. Le taglio. Così, bene, bene. Eh, metto un po' qui. Sì. Ma che bellezza che sto facendo. Un po' di cuoricini. Ottimo. Non male. Ma le mie ciambelle sono belle anche senza le decorazioni. Così. Che bravo che siete. Io ho un'idea. Un po' di formaggio. Aspetta, sì, così. E lo metto qui. Lo metto nella forma per le... Sì, per le ciambelle. E come decorazione userò Siti Citos. Lavoro un po' con il martello. Bene, bene. Ma lui sa cos'è una ciambella? Ecco, fatto. E lo metto sopra. Così. Aspetta, lo metto qui nella ciotola. Sì, bene, bene. E metto sopra la ciambella. Sì, ma manca qualcosa. Nonna, posso prendere questo? Va bene, prendi. Grazie. Ok, non mi serve la padella. Ma devo prendere sì la carta d'alluminio. Così. E posso metterle direttamente. Bene, così, sul fuoco. Fatto. Adesso posso servire. Bene, bene. Ma voi cosa avete? Che bello! Sono così diversi! Parto da questi. Sono molto affiditosi. Oh, c'è qualcosa dentro. È così buono. Ok, bene, bene. Ok, qui cosa c'è? Carini. Proviamo. Ma la ciambella normale. Vabbè, così, così. E questo? Proviamo. Wow! Ma è una ciambella, un formaggio. Ottimo. Quale mi serve? Ma lo chef ha vinto. Ah, sì, lo sapevo. Dunque, io voglio un sandwich. Senza problemi. Ah, no, non vincerai. Oh, vabbè. Lo so, farò un sandwich dolce. Mi serve la nutella. Fatto. E poi metto, sì, qui. Tanta nutella. Ma tanta, proprio, tanta. Bene, e adesso aggiungo i marshmallows. Aspetta, devo prenderli prima, eh. Così, prendo i marshmallows. E li metto sopra. Ottimo. E ovviamente il cioccolato. Così. Bene. E aggiungo anche queste strisce gommose. Oh, che bello. E poi, sì, la salsa. Ottimo. Sono stato così brava. E un po' di caramelle sopra. Così. Bene. Che terrore. Quanto zucchero. Io farò un sandwich normale. Un po' di prosciutto. Così. Il formaggio. E sì. E devo friggere un po'. Così. Bene, bene. Ok. Fatto. Devo girare. Ed è pronto. Vabbè, non è originale. Ok, il pane. Lo friggiamo per bene. Così, da entrambe le parti. Bene, bene, bene. Ok. Metto sì l'insalata. Così, i pomodori. E adesso... Sandwich senza carne. Cos'è? Ah, il mio ingrediente segreto. Le lumache. Che terrore. Vabbè, devo sì liberarle. Oh, sto male. Oh, non capisco cos'è. Che terrore. Non mangio queste lumache. E adesso aggiungo le cozze. Oh, che terrore. Che schifo. Ah, questa si chiama la cucina. Ah, manca qualcosa. Ah, sì. La gorgonzola. Sta benissimo. Con i frutti di mare devo grattugiare un po'. Oh, no. Questo è l'urzo. No, no, no. Non stai qui. Eh? Ed ecco fatto. Yeah! Che terrore. Come on! Siete pronti? Oh, che belli che sono questi panini. Parti da questo. Eh? Cos'è? Che schifo! No! Non è voglia! Oh, no! No! E questo sembra più bello. Proviamo? Quanto è dolce ed è buono. Beh, l'ultimo. Buonissimo! Sì! Nonna, hai vinto! E voi! Eh, cosa altrimenti fare? Io voglio l'insalata. Oh, che bello. Oh, finalmente. Ok. Ma che scelta è questa? Oh, cominciamo. Ok. Non è difficile tagliare i pomodorini. Oh, ma cosa? Ma perché? Dai su, adesso ne prenderete. Oh, ma perché è così difficile? Giovannotto, cosa stai facendo? Sta' attento! È così semplice! Guarda e impara! Uno, due. Ed è fatta! Poi aggiungiamo l'insalata. E poi, un po' di pollo. Così. Forse anche un po' di più. Così. Cos'è facendo? Io ho un'idea. Un po' di rucola. La metto qui, nel frullatore. Un po' di miscela. Nessuno però sa il segreto, perché è segreta. Eh, sì. Facciamolo partire. Ma... Ma cos'è? Pfff! Eh, sì. Ti serve una pentola. Versiamo tutto quanto qui. Cosa sta facendo? Non lo so, dire il vero. Non lo so, eh. Prendo una grande siringa. Così. E una canuccia. Ed ecco la magia. Guarda cosa ho fatto. Una salsiccia. Aggiungo l'insalata. I pomodorini. E ovviamente... Il pollo. Va bene così. Come on! Ne taglio un po'. Bene, bene, bene. I've got it! E' ok. Mettiamolo qua. Il pan grattato. Ti sta bene. E ovviamente il formaggio. Oh, sì. Mi sono dimenticato di grattugiare il formaggio. Così. Ah, cosa succede? Ed è così divertente tagliare, sì. Però non riesco a far nulla. Oh, vabbè. No. Ho un'idea. Io ho l'acciunga. E questa sì, sarà la nostra insalata. Ok. Bene, decoriamo il piatto. Aggiungiamo gli occhi gommosi. Poi i marshmallow. Qui. E poi i vermi gommosi. Bene, bene. Fatto. Cos'è questo? Siete pronti? Vediamo. Parto da questo. Cos'è questo? Beh, che schifo. No. Beh. E qui? Proviamo. Non male, sì. Qui c'è qualcosa di interessante. Che buono che è? Sì, questo è il vincitore. Sì. Vai, ho vinto. Alla sfida. Ragazzi, siete una sfida? Allora mangiamo il cibo di un colore per 24 ore. Cominciate. E cominciamo da Martin. Uh, così grande queste sneakers. Ma è troppo grande, secondo me. Ma adesso devo controllare. Ok. Sì, non riesco a mangiarlo così. Devo inventarmi qualcosa. Lo so. Lo... Sì, il samurai martini è pronto. Adesso lo taglio così a pezzettini e sarà molto più comodo da mangiare. Ok, fatto. Oh, che bello. E adesso posso mangiare tranquillamente questo sneakers. Mmm, sì, che buono che è. E questo è mio e questo... Ok, ho finito. Nancy, tocca a te. Sì, nessun problema. Io ho le patazzine azzure e tachis. E adesso le mangio. Mmm. Però sono piccanti, però sono buone. Mmm, voglio ancora? Oh, mi sveglia. Oh, trovo buona. Oh, no, è così piccante. No, è troppo. Ragazzi, non posso trattenermi. Oh, che terrore, Nancy. Basta. Ma perché c'è la puzza di bracciata? No, sono io che vado a fuoco. Ti salvo. Ok, ti ho salvato. Thank you. Oh, no, povero Nancy. Si va ancora a fuoco. Lo so come salvarla. Io ho qui dell'acqua. E spero che le aiuti. Oh, sì, finalmente. Ok. Oh, è stato terribile. Vabbè, è stato piccante. Sono tutto quanto bagnata. Ok, devo asciugarmi. Ok, così va meglio. Grazie per l'aiuto. Gilles, tocca a te. Ciao, Uba Booba gigante. La prima volta nella vita mia che vedo una ciunga del genere. Dove è andata? Eh, vabbè. Devo provarla. Sì, è così buona. Non posso neanche fermarmi. Wow, ma come fate a mangiare tutto? È perché io adoro Uba Booba e posso mangiarla all'infinito. E adesso, ragazzi, vedrete la bolla più grande della vostra vita. Gilles, forse ti fermi. No, è troppo. Oh, no. Si è scoppiata. Scusatemi, ragazzi. Non volevo. Ok, devo togliere tutto quanto. Cosa? Cosa c'è con il mio naso? È rosa. E ragazzi? E voi avete nero? È azzurro. Ah, sì, ma è il colore del cibo. Ok, non vi preoccupate, non è per sempre. Ok, sì. Le prelepettezze nuove. Hamburger nero. Sì, il gelato azzurro. Sì, Gilles ha la sciamballa. Ok, Gilles, buon appetito. Adesso la mangio, sì, velocemente. Taglio un pezzo. È così appetitoso. Sì, ragazzi. Questo è troppo buono. Sono così felice che è tutto mio. Ottimo. Ecco, ho finito. Potete cominciare voi. Non si posso io. Sì, grazie. Ho fame. Adesso mangerò questo hamburger in quattro a quattro occhi. Però prima metto i guanti. Non riesco, devo gonfiarli. Gilles, scusa. Non volevo. Però adesso riuscirò a metterlo. Ok, è pronto. Ma come faccio a morderlo? Forse è troppo grande. Ok, devo tagliarlo a metà. Ma cosa? Pensate che io abbia deciso oggi per il caffè? No, grazie a questa tazza posso fare degli hamburger piccolini. E adesso lo assaggio. Oh sì, è incredibilmente buono ed è molto comodo da mangiare. E adesso faccio tanti mini hamburger. Ottimo. Ecco. Cosa? È rimasto un po' qui. Ecco, io ho finito. Nancy, puoi finire questo round. Ok, devo stare a fare il cucchiaio. Anche se questo cucchiaio è troppo piccolo. Ok, devo trovare qualcosa di più grande. Ok, questo va bene. Ok. È così pesante. Cado. Ma come? Tutto il gelato è per terra. Buono. Ok, grazie, Marty. Ma, Marty, le tue orecchie. Guarda, sono azzurra. Rosa? Oh, che bello. Ragazze, vedete? Un trucco. C'è un dito, non c'è il dito. E adesso c'è... Cosa? Dov'è il dito? Torna. Wow, abbiamo qualcosa di buono qui. I sushi dolci. Oh, i muffin nero. E io, un macaron rosa, sì pesante, ma io riesco a sollevarlo. Oh, no, sto cadendo. Tieniti. Ok, grazie. Ok, provo. Ma come faccio a mangiarlo? È troppo difficile. Hai un'idea. Ragazzi, guardate. Sono Gigi, karate. E adesso vi faccio vedere l'art del competimento. Chi ha fatto? Grazie, amici. E adesso posso finalmente mangiare questo macaron. è così soffice. Non pensavo che tu avessi così tanta fame. Dai, su. Devo mantenere le forze. Ecco, avete visto che tocco. Quattro parti. E io continuo a mangiare perché non posso fermarmi. Ecco, io non ho più fame e posso tornare. Martin, tocca a te. Ok, io ho fame. Parto dalla crema. Com'è? Buona. Mi piace. Ragazzi, ma cosa avete in mente? E cosa dopo le tre? Ah, Martin. Vabbè, mi dispiace. Cioè, sì, la tua faccia è nera o la crema è nera? Non fa ridere. Eh, io sono tutto quanto sporco. E sì, è cupcake, è rovenata. Però comunque è buona. Però non condivido con voi. Oh, cosa? Devo tenere così le bacchette? No. Ma come si tengono? È difficile. Forse così? No. No. Così. Eh, va bene. Io le assaggerò così, è modo mio. È un po'... No, è caduto. Ok, via le bacchette. Ok, è più comodo mangiare così con le mani. Ah, sì, troppo buona. È da legarsi le dite. Martin? La feva qui. Eh, grazie. Mamma. Ciao. Eh, mi piacciono i miei occhi. Oh, che ridere. Ok, l'ultimo occhiolino. E io lo mangio così, a pezzi. Mmm, ed ecco l'occhio. Wow, il mio collo è azzurro. È mio nero. È gira rosa. Oh. Questa volta gira la pizza rosa. Martina i nodolini neri. E Nancy si ha dei pancake molto carini. Ok, provate. Mmm, che profumino. Oh, e poi i merzilli sopra. Io li adoro. Oh, che bontà. Cosa? Volete i merzilli? Vabbè, Nancy. Prendi. Mmm, buono, Martin. Vabbè, tu non ce l'hai fatta. E adesso prendo io. È troppo buono. Ok. Ne prendo un altro. Guarda che riesco a fare. Uh, dei sorrisi a tutti. Ok, preso. Ok. L'ultimo. Oh, questo l'ho preso io. E adesso vi faccio vedere la faccina. Ecco, non devi lanciare il cibo. Sì, scusa. E tu cosa ridi? Ok. Vado a mangiare i miei nodolini neri. Adesso li assaggio. Mmm, che bontà. Ho così tanta fame che mi sembra che posso mangiare tutto quanto così. È troppo buono. Mmm, sì, sono i nodolini più buoni della mia vita. Oh, che velocità. Ma come fai a mangiare così tanto? È stato incredibile. Ho finito, quindi Jill può continuare. Sì, però devo pensare a qualcosa di interessante. Hai un'idea. Io adesso taglio la pizza. Ma non come sempre. Ma faccio cose a serpentina. Sarà molto interessante. E adesso posso provarla. È così dolce. Ragazzi, sì, le pizze con marshmallow è meglio che con il salame. Ma tagliando così le pizze io l'ho finita molto prima. Wow. Sì, ma guarda le mie mani sono rose. Che bella. Uh, anche noi siamo colorati, Martin. Ragazzi, vi aspetto il cibo. Ok, Jill, a pochi. Martin, la Coca-Cola. E Nancy? Ah, sì. Delle persone gommose. Tutto molto bello. Nancy comincia per prima. Io non ho mai massaggiato così. Buoni? Eh, sì, ma anche acidi. Adesso li metto sul tavolo e li metto tutti quanti. Vediamo che succede. E l'ultimo. Ah, Jill, no. Però mi sono sbagliata. Tocca t'aggine. Sì, i pasticini pochi con la fragola. Poi, i miei preferizi. Non riesco a fermarmi. Eh, vabbè. Sì, non c'è mai tanta fragola. E allora aggiunga anche lo sherlock alla fragola. Ah, sì. È così buona. Ho finito tutto. Ed è stupendo. Martin, tocca a te. Eh, va bene. Adesso becerò velocemente questa Coca-Cola. Non lo vedrete neanche. Ma questo è una caramella liquida. È molto dolce e molto la Coca-Cola. Sì, facciamo uno scherzo a Martin. D'accordo. Dai. Oh, ragazzi, basta. Basta, ne ho mangiato abbastanza. Basta, smettetela. Oh, ho mangiato troppo. Martin, sei tutto quanto nero. E tu sei rosa. E Nancy, tu sei tutto quanto azzurra. Oh, dove è andata? Jill? Dove sono andati? Ciao, Nancy. Ciao, Jill. Ciao, Martin. Ok. E come tornerete alla forma normale? Io ho... Sì, ho una medicina giusta. Adesso la beviamo e passa tutto. Che succede? No, siamo normali. Sì, che bello. Congratulazioni. E vai.